Erano due gli amori nella vita di ma la musica, a cui ha dedicato al suo intera carriera, e la famiglia costruita con Chiara Buratti, la moglie che aveva sposato nel 2006, con testimone di nozze proprio il canale. La musica, ed è lei a salutare per prima il conduttore radiofonico morto in queste ore all'età di 62 anni, dopo l'annuncio fatto questa mattina. A lei resta il compito di crescere Francesco Danilo, il figlio avuto nel 2007. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, Chiara pubblica uno scatto insieme al marito e scrive, questa è la tua foto pre- È di fine aprile, siamo a Colmario, temi tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon ble spettacolo Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme E ancora, ti ho sempre detto che mi hai salvata, si legge Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia, questo ci tenevi sempre a specificarlo, e abbiamo camminato assieme per 21 anni Non sempre in discesa, ma avevamo ottime La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te Continua a soffiare nel vento Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un is Te lo prometto, tanti messaggi di condoglianze arrivati in calce Tra i nomi si riconoscono i tanti artisti con cui Cotto ha collaborato negli anni Danèca Samuele Bersani, da Dolce Nerald Ambra Angiolini, attrice a conduttrice, scrive che invia il suo supporto con tutto l'amore che posso Fa ecco la cantante Nina Zilli, che grande do Vi abbraccio for In questi mesi Massimo Cotto si era spesso assentato dalla conduzione del suo show, Rock and Talk, programma che presentava in coppia con Maurizio Faulisi e Antonello Peroso e in onda da In questi mesi Massimo Cotto si era spesso assentato dalla conduzione Le assenze erano però dovute alla malattia della moglie, di professionatrice e conduttrice su Rai Scuola, seppure non aveva mai chiarito quali fossero i problemi di salute che la avevano colpì L'ultima puntata in cui è stato presente è andata in onda un paio di settimane fa Poi il silenzio Massimo Cotto ha dedicato la sua vita alla radio Classe 1962, è stato negli ultimi anni storico volto della radio milanese appartenente al gruppo medio Il debutto in radio è arrivato all'inizio degli anni Ottanta, poi una lunga carriera per alcune delle emittenti più famose del paese Da Rai Radio 1 a Radio Capita Non solo radio però nella sua vita, ma anche il lavoro come autore, al momento scriveva per Il Messaggero, ma in passato ha lavorato come autore di programmi televisivi prestigiosi con Altrettanto ricca al sua produzione di biografie, che lo ha visto collaborare, tra gli altri, con Ligabue, Luca Carboni e Renato Zero Grazie